Ho capito di cosa hai bisogno, se l'ho preso. Nissan presenta la nuova Micra Junior, con un prezzo fuori, ma tutto dentro. Campione di prelandetta, la seguida in soltezza, nuove a dire il disco e il filo è la secolo. Nuova Micra Junior, con i nuovi eco-incentive Nissan, viaggiare in una Micra oggi costa solo 14.900.000. Ho capito di cosa hai bisogno, se l'ho preso. Nissan presenta la nuova Micra Junior. Cos'è sta, nasce tutto. Da. Grazie a tutti